Un'esperienza. Come viviamo un'esperienza? Commento. Ogni esperienza della nostra vita e della vita del cosmo a cui apparteniamo è latente e congelata nell'eterno presente. L'esperienza si attiva quando noi abbiamo la necessità evolutiva di sentire le scene che compongono quell'esperienza. Allora l'esperienza si materializza come un'immagine fotografica che emerge in un bagno di sviluppo.